Seawatch, sbarcati a Lampedusa i 47 migranti, un passo obbligato dopo il sequestro dell'imbarcazione. Il comandante è indagato dalla procura di Agrigento per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'inviato Giuseppe Lavegna. Salutano l'equipaggio della Seawatch mentre la motovedetta della Guardia Costiera li porta a terra. C'è anche un uomo disabile nel gruppo. Lo sbarco avviene al buio. Di notte i 47 naufraghi sono provati. Qualcuno ha bisogno di cure. È l'epilogo dell'ennesimo caso legato alle ONG, un caso concluso col sequestro della nave. Nonostante il divieto del Viminale, la procura di Agrigento dispone l'evacuazione del mezzo e il trasferimento dei naufraghi. Subito dopo l'imbarcazione viene trasferita. Il comandante Arturo Centore, ex ufficiale della Guardia Costiera, è il primo indagato nell'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In una nota il procuratore capo Luigi Patronaggio rivendica il sequestro dell'imbarcazione e il contestuale sbarco dei naufraghi. Poi indica gli obiettivi dell'indagine, scoprire se ci siano degli scafisti e verificare la condotta dell'equipaggio. L'organizzazione non governativa tedesca si dichiara pronta a collaborare e ribadisce. Quando finirà il sequestro torneremo in mare. Non possiamo fare altro, soprattutto nel momento in cui laggiù non c'è nessuno. Avendo visto con i miei occhi persone a negare, ogni volta che le vedo arrivare a terra, vive, se anche fosse per una sola, per noi quella è una missione compiuta.